Un anno di commercio e turismo al collasso, un anno di alberghi vuoti, palestre chiuse e di tantissime difficoltà per alcuni settori. Il centro storico dell'Aquila provava faticosamente a rialzarsi dopo il sisma, ma dopo 12 anni deve fare conti con un altro problema di difficile gestione, soprattutto perché non si sa quando finirà. Nonostante questo ci sono imprenditori coraggiosi, quelli che resistono in centro e quelli che, nonostante il momento, hanno deciso di aprire una serranda nuova all'Aquila. Nell'ultimo anno basta farsi un giro tra le vie del centro storico per rendersi conto che qualcuno ha sfidato la situazione e ha aperto nuove attività lo stesso. Ma i conti sono a zero, quasi pochissimi coloro che riescono a respirare. Probabilmente alla fine di tutto questo alcune imprese non riapriranno mai i battenti. Nel turismo si prova a ripartire, l'assessore comunale Aquilio porterà le stanze degli albergatori e degli attori interessati al ministro Garavaglia. Giorgio Carissimi si occupa per conflavoro di pubblici esercizi e prova a tracciare un bilancio di quel che è, annunciando anche degli accordi con il Comune. Tutto l'intero settore è in grave difficoltà, parlo di alberghi, di ristoranti, anche altri esercizi. Se parliamo del comparto della montagna è veramente fermo da un anno come le palestre. L'amministrazione ci è venuta incontro riducendoci la Tari. Ieri abbiamo fatto un nuovo incontro e abbiamo ottenuto l'esenzione della COSAP. Oltre a essere esenti da COSAP e Tari sulla COSAP, quindi la tassa della spazzatura sul solo pubblico, siamo riusciti anche ad ottenere la semplificazione. Quindi le domande potranno essere fatte con la semplice richiesta al portale Impresa in un giorno, quindi è molto molto semplice. Ci sono anche alcuni che coraggiosamente stanno cercando di aprire nuove attività. Questo ci fa sperare perché ci fa capire che bisogna andare avanti. Il Comune ha provato in questa maniera ad andare incontro alle richieste degli esercenti. C'è un esercito di imprese in difficoltà e i ristori sono sempre troppo pochi per chi li ha presi rispetto alle spese. Chiediamo al governo di farci riaprire prima possibile. Questo protocollo è completamente sbagliato. Lo dicono i fatti, non lo dico io. Noi siamo chiusi da sei mesi, eppure la gente continua a morire. I contagi salgono sempre e rimangono stazionari. Significa che non siamo noi il problema di tutto ciò. Quindi l'appello che faccio a nome di Conflavoro, fateci lavorare, fateci riaprire.